A otto anni dall'evento sismico del 30 ottobre 2016 che ha interessato quattro regioni del centro Italia, il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli ha fatto il punto sugli interventi e sulle risorse finanziarie disponibili. Il sismo ha lasciato un segno profondo anche in Abruzzo, in particolare nelle province di Teramo e L'Aquila. Per quanto riguarda la ricostruzione sono stati autorizzati oltre 20.000 cantieri privati nelle quattro regioni colpite, di cui 11.000 già completati. Complessivamente sono stati stanziati 9 miliardi di euro con il 95% degli interventi di ricostruzione pubblica autorizzati, corrispondenti a 4,2 miliardi di euro per più di 3.500 progetti. Abbiamo ricordato l'anniversario della terza grande scossa 6.5 che devastò l'Apennino centrale, il preludio a quella che sarebbe stata poi la quarta distruttiva scossa del 18 gennaio che per l'appunto riguardò e colpì prevalentemente l'Abruzzo. Un Abruzzo che dopo le prime false partenze iniziali ha saputo imprimere però davvero un cambio di passo ad una ricostruzione che presenta dei numeri davvero molto convincenti. In Abruzzo al 30 luglio 2024 sono state presentate 5.541 domande di ricostruzione, di cui 2.816 sono state approvate. L'importo richiesto ammonta a 1,2 miliardi di euro con 642 milioni già concessi e 334 milioni liquidati. Attualmente sono stati avviati 2.816 cantieri, di cui 1.758 sono già stati conclusi. Avere una ricostruzione privata che corrisponde a quella che è la sensazione complessiva di aver superato finalmente quelle che erano le difficoltà iniziali, burocrazia, pelli formali che però finalmente governiamo grazie anche a questo grande rapporto con i governatori regionali. Mentre il dato emerso dalla ricostruzione del Terramano è sensibilmente sopra il dato regionale con il 79%. Da ultimo un cenno alla ricostruzione pubblica, anche in questo caso moltissime le difficoltà che abbiamo dovuto superare, ma tutto ciò che sta accadendo, specie in quella di Terramo, dimostra come davvero la struttura commissariale e l'ufficio speciale della ricostruzione, guidato magistralmente da Vincenzo Rivera, sanno dare finalmente delle risposte. Abbiamo infatti prodotto e promosso attività che vanno nel segno di confermare questa velocitazione a lungo attesa che forma un diritto specifico dell'agente abruzzese.